Salve, io sono Gabri Costa. Finalmente in questo gioco Streets of Rage 4 siamo arrivati all'ultimo personaggio disegno HD. In ogni video vi ho fatto vedere tutti i personaggi disegno HD del gioco Streets of Rage 4, ma questo è l'ultimo che vi sto facendo vedere in questo video. Ora in questa recensione è il momento di parlarvi di Shiva. Ve lo spiego e ve lo commento. Prima si parte dalle sue mosse sbloccate e poi dai suoi colori alternativi. Partiamo. Shiva può fare Final Crash e Flying Kick, Flaming Circular Kick e Ashing Show. Senre Tsuken e Spirit Palm, Air Senre Tsuken e Spirit Kick e poi c'è Shin Ashing Show e Spirit Dance. Passiamo ai colori. Primo, secondo, terzo. Bene, la mia recensione finisce qui. Il mio video è finito. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che questi erano personaggi disegno HD di Streets of Rage 4. Ora nei prossimi video vi farò vedere anche i personaggi 16-bit, che anche loro hanno le mosse sbloccate e i colori alternativi. Mi raccomando, voi dovete esserci in quei video che farò e che li recensirò. Bene, vi saluto. Ho parlato abbastanza.